Siamo a casa del campione di M-Bike categoria H3 Paolo Cecchetto. Paolo, racconta ai tuoi fan le emozioni provate per le ultime vittorie. Sì, innanzitutto ciao a tutti. Sì, un'emozione fortissima. Diciamo che dopo la medaglia di Rio non ho più nulla da perdere, per cui ho cambiato metodo di allenamento, ho trovato nuovi stimoli, ho visto che potevo raggiungere quegli obiettivi che li ho raggiunti, gli obiettivi prefissati con il mio allenatore, cambiando modo di allenamento e non puntando solo le gare in linea ma anche l'elettronometro, per cui i risultati ho visto da subito che ci sono stati. Ho raggiunto tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati fino ad ora, li abbiamo centrati, siamo soddisfattissimi, dico siamo perché il mio allenatore Sannelli e Ercole Spada, mio sponsor, sono tra quelli del mio team che più abbiamo gioito di questi traguardi, e traguardi che hanno visto il campionato italiano in assoluto, ecco. Ho vinto il campionato italiano a pronometro, con una grande vittoria, ho vinto il campionato italiano in linea, anche lì benissimo, staccando tutti, e poi ho vinto la Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo che non mi ero prefissato di vincerla assolutamente perché non era nei miei obiettivi, ma strada facendo abbiamo visto e ci siamo resi conto che potevo arrivare a raggiungerla. Sono soddisfatto e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso, il mio sponsor, il mio team, il team Equa, che mi supporta in tutto, e i miei fans, i miei amici che mi vogliono bene e gioiscono con me per tutte le vittorie.